Dopo le dichiarazioni di Goletta Verde in merito lo stato di inquinamento, insomma di salute delle spiagge lucane, oggi intervisteremo il sindaco di Scanzano, l'avvocato Raffaello Ripoli. Allora, avvocato, tra le spiagge segnalate come fortemente inquinate da Goletta Verde appare anche quella di Lido Bufaloria. Che cosa si sente di dichiarare in merito a questa ultima segnalazione partita proprio da Goletta Verde? Allora, io posso soltanto dire questo. Abbiamo attivato immediatamente gli uffici affinché facessero dei sopralluoghi lungo il canale che porta poi, che sfocia poi a Bufalaria. Certo, diciamo, questa pubblicità negativa, perché di questo si tratta, voglio dire, mi coglie un po' di sorpresa anche perché ritengo, e lo dico senza nota polemica, però, quando ci sono questo tipo di analisi che riguardano un territorio, io credo che i territori debbano essere portati a conoscenza prima di essere sbattuti sul giornale, perché potrebbero esserci davvero delle ripercussioni negative per il territorio interessato nel caso di specie Scanzano e questo non lo ritengo giusto. Ma in ogni caso, appreso di questa notizia dalla stampa, ho attivato immediatamente gli uffici per i controlli lungo il canale. E non solo, abbiamo anche disposto immediatamente un prelievo e delle analisi da parte dell'amministrazione comunale, tese a verificare se quanto, voglio dire, è emerso dagli ordini di stampa abbia un fondamento di verità o meno. Bene, Avvocato. Ci spostiamo questa volta in località Terzo Cavone, una spiaggia bellissima, lo ricordiamo, adatta per tutte le famiglie. E proprio per questo, ieri abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di una famiglia, la quale ha denunciato la presenza di alcuni nudisti su questa spiaggia, alle autorità. Queste autorità, la polizia di Policoro è giunta sulla spiaggia di Terzo Cavone, portando con sé questi nudisti. Il punto è, questa è una spiaggia autorizzata per i nudisti oppure è per tutti e potrebbe essere fruibile anche alle famiglie? Assolutamente, questa spiaggia non ha una destinazione specifica, non c'è alcun tipo di autorizzazione né per nudisti né per altri. È una spiaggia fruibile a tutti e quindi io ringrazio questa cittadina che ha denunciato, ringrazio le forze dell'ordine per essere intervenuti immediatamente perché ritengo, citando un vecchio adagio, che la libertà di ognuno finisca dove inizia quella dell'altro. Quindi la spiaggia è fruibile a tutti e a maggior ragione se ci sono bambini che possono, vogliono e debbono frequentare quella spiaggia è chiaro che non possono assistere a quello che è una violazione di legge, tant'è vero che poi c'è stato un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha tratti in arresto queste persone che stavano lì nude ma non erano autorizzate assolutamente a tanto da una destinazione particolare della spiaggia. La spiaggia di Cavone è una spiaggia come tutte le altre, motivo per cui il rispetto delle norme, del buon costume, del decoro, esiste lì come esiste su tutte le altre spiagge. Quindi Sindaco, quali provvedimenti intende adottare per rendere fruibile questa spiaggia alle famiglie e tutti i turisti e bloccare un certo fenomeno che si è generato su internet da un po' di anni, come una spiaggia, noi lo diciamo, anche di scambio di coppie queste famiglie hanno denunciato la presenza di siringhe, di altri detriti, rifiuti. Che cosa farà? Allora, innanzitutto chiariamo perché se no si fa di tutta l'erba un fascio. Se questa spiaggia ha particolari frequentazioni da parte di persone che hanno gusti particolari, io onestamente non mi sento di discriminare. Però è anche vero, ritorno al discorso di prima, che poi c'è un decoro, c'è un buon costume, voglio dire, ci sono delle norme, ci sono delle leggi che vanno assolutamente rispettate. Motivo per cui io non sto a discutere i gusti sessuali delle persone, perché ognuno è libero, voglio dire, di fare quello che vuole. Però se questo poi comporta la violazione di norme, la violazione di legge, è chiaro che io da questo punto di vista sono intransigente. Cioè non è che un pezzo di spiaggia può essere, ci si può appropriare di un pezzo di spiaggia in violazione delle normative esistenti. Quindi un sindaco non può far altro che monitorare il territorio e accertare in qualche modo, anche se abbiamo poche risorse, questo lo dobbiamo ricordare, abbiamo poche risorse atte in tal senso, cioè atte a fare questo, per controllare. Quindi non possiamo essere onnipresenti perché abbiamo soltanto, lo devo dire, ringrazio i carabinieri che costantemente vigilano il territorio con una pattuglia presente sul territorio. Altrettanto fa la polizia e le forze dell'ordine in generale, però voglio ricordare che come presidio stabile sul territorio abbiamo il corpo forestale che ben potrebbe accedere soprattutto ai luoghi di cui parliamo, difficilmente accessibili, diciamo, con mezzi e quant'altro. Io ho fatto un sopralluogo domenica scorsa, ho verificato anche la presenza di rifiuti di vario genere, e questo per passare poi al capitolo rifiuti, e quindi, diciamo, in transigenza per la violazione delle norme del buon costume, ma anche in transigenza dal punto di vista dei rifiuti. Abbiamo effettivamente rilevato la presenza di materiale di vario genere buttato quasi lì per sfregio. Io non capisco, insomma, quale cittadino non abbia a cuore il proprio territorio, è come se uno buttasse nel giardino di casa sua l'immondizia e la spargesse dappertutto. Io credo anche che non si tratti solo, o quantomeno sono pochi i miei concittadini che compiono questi atti, perché sarebbe assolutamente inconcepibile, voglio dire, solo un malato può sporcare il territorio in cui vive. E infatti, Sindaco, a proposito di questo, è uscito un post su Facebook? Sì, abbiamo fatto dei controlli ultimamente ed è elevato anche delle sanzioni, anche a carico di cittadini di paesi limitrofi, ahimè, lo devo dire, che abbiamo trovato a scaricare di tutto di più immondizia di ogni genere sul territorio comunale in paese, ma presumo che questo si faccia anche sulla spiaggia e, ripeto, probabilmente la provenienza di questi rifiuti è la più svariata, è del genere più svariato. A questo proposito, siccome abbiamo anche problematiche ataviche che affliggono il comune di Scanzano Ionico in relazione ai rifiuti, abbiamo come amministrazione comunale innanzitutto stabilito una giornata per sabato mattina, quindi per domani mattina, dove i componenti dell'amministrazione comunale, coinvolgendo tutte le associazioni e qualunque cittadino voglia contribuire in tal senso, una giornata di pulizia straordinaria, diciamo, delle spiagge. Al contempo, stiamo lavorando da tempo, nonostante tutte le difficoltà, diciamo, che partono da lontano, di discarica e quant'altro, insomma, stiamo lavorando su un duplice fronte, quello di ripristinare un rapporto di collaborazione e di, diciamo, di sinergia con la ditta che attualmente serve il territorio, che è la Tradeco. Quindi cerchiamo di ripristinare un buon rapporto con loro. Perché il buon rapporto? Perché comunque avanzano un sacco di soldi. Ecco, Sindaco, questo è un problema che abbiamo affrontato anche un po' di tempo fa, quando lei ovviamente non era Sindaco. Allora, il Comune di Scanzano deve parecchi soldi, insomma, alla Tradeco. Non solo, anche le discariche. Come pensa di affrontare, di fronteggiare questa questione? E poi le volevo chiedere, in che stato di salute, insomma, avvertono le casse comunali? Come le ha trovate? Guardi, sulle casse comunali non piango per una questione di decenza davanti alla Telecamera, perché davvero le prime tre settimane io le ho passate a ricevere richieste di pagamento continue, che sono state le più disparate, voglio dire. Cioè, soltanto nel settore rifiuti siamo a un milione e mezzo di euro di debiti, solo per i rifiuti, poi c'è il servizio trasporti, c'è il servizio pulizie, vari incarichi dati ai professionisti in passato che oggi ci ritroviamo, lavori non pagati, cioè, è un disastro davvero. Le casse comunali sono veramente davvero in uno stato pietoso, c'è un grande problema di liquidità, per cui corriamo dietro alle problematiche quotidianamente, diciamo, non cerchiamo di rattoppare i buchi, stiamo letteralmente sopravvivendo e galleggiando. Allora, Sindaco, però, mi scusi, adesso però questo disavanzo, no, nelle casse comunali inciderà in qualche maniera nelle tasche dei cittadini? Noi ci stiamo adoperando, dicevo, stiamo agendo su un duplice fronte, cioè, oltre a risolvere i problemi di emergenza, quelli quotidiani, stiamo pianificando, facendo dei piani di rientri un po' con tutti. In settimana andrò a Pisticci perché sono arrivati 600 mila euro, un decreto ingiuntivo da 600 mila euro dalla Comune di Pisticci per la discarica alla Recisa, dove non hanno pagato praticamente nulla. Io non lo so che cosa abbiano fatto negli anni scorsi, però mi sento veramente di friggere, per usare un eufemismo, quando ho sentito anche delle dichiarazioni della vecchia amministrazione quasi che avessero lasciato l'El Dorado. Cioè, abbia il coraggio il sindaco Jaco Bellis, il sindaco Schen, di venire a fare un confronto pubblico in questa sede, di fronte ai numeri, e poi vediamo quello che ha lasciato la vecchia amministrazione. Comunque, ci siamo rimboccati le maniche perché non vogliamo guardare al passato, vogliamo guardare al futuro. Quindi, nell'attività di programmazione, stiamo lavorando alacremente, su un bando, teso, come dicevamo in campagna elettorale, alla differenziata. E' chiaro che c'è una tempistica burocratica, dettata dal bando europeo, nella migliore delle ipotesi, è inutile prendere in giro i cittadini, ci vorranno otto mesi, un anno, per iniziare una raccolta differenziata seria. Nel frattempo, che cosa facciamo? Rimaniamo, voglio dire, nel degrado più assoluto? No, abbiamo cercato di ripristinare, dicevo, un buon rapporto con la ditta, stabilendo anche un piano di rientro. Però noi vogliamo pagare i debiti, ma loro devono dare il servizio. E lo stanno già facendo in questi giorni, e di questo devo dire grazie ai dipendenti, agli operai, dalla Tradeco, perché si stanno spaccando l'anima, davvero, per cercare di ripristinare una situazione di decoro. Ho chiesto collaborazione ai cittadini scansanesi, dicendogli, rispettiamo un'ordinanza che c'è da svariati anni, che prevede che i rifiuti possano essere depositati nei cassonetti dopo le ore 21 e fino alle ore 5 del mattino. Questo perché? Perché poi, durante la notte, con un doppio turno che fanno gli operai, e durante le prime ore della mattina, i rifiuti vengono prelevati. Quindi, durante l'arco della giornata, non vediamo quei cumuli di immondizia vicino ai bidoni. E inoltre, questo potrebbe essere utile anche per individuare i cittadini dei comuni limitrofi, ai quali faccio questo monito. Non venite più a buttare l'immondizia, perché li ho visti io con i miei occhi, non è che me l'ha riferito qualcuno. Non venite più a buttare l'immondizia a Scanzano, perché ci sono, stiamo attivando un servizio di monitoraggio, e nel momento in cui vengono pizzicati, sono sanzionati. È già successo e sono sanzionati anche in maniera seria. Così come diamo il tempo di riabituarsi alle buone pratiche, ai cittadini scansanesi, ma anche ai cittadini scansanesi. Se non collaborano, ovviamente saranno sanzionati anche loro, laddove non rispetteranno gli orari di conferimento. Quindi sono una serie di piccole iniziative, raccolta, promossa dall'amministrazione, ma ci sono anche associazioni di volontariato, alle quali voglio dire grazie per la pulizia straordinaria delle spiagge. Collaborazione con la Tradeco, speriamo che a breve ci mandino i cassonetti, più cassonetti e i secchi dell'immondizia che servono per la spiaggia. Lavoro sul bando per fare il primo possibile. Ha messo in atto una serie di iniziative che dovrebbe in qualche maniera risolvere la questione, però è stato onesto nell'affermare che la tempistica è abbastanza lunga. È chiaro che il danno... Nel frattempo state lavorando. Allora, Sindaco, cambiamo argomento. Scansano Ionico è conosciuta e più, insomma, per essere stata sempre nell'occhio, nel mirino della cronaca, per tante vicende legate in qualche maniera anche alla sicurezza. C'è anche da dire un fatto che Scansano offre un, diciamo, tante peculiarità dal punto di vista storico-archeologico. È stata inaugurata di recente la Torre Faro e non solo è fruibile, è bellissima i turisti, ma non solo ha tante attività che lavorano onestamente, i cittadini pagano le tasse. È una città come le altre, ma in realtà manca un presidio. E in qualche maniera si riesce, si è riuscito in questi anni, a incidere poco su alcune famiglie le quali poi hanno generato attraverso una sorta di educazione forse sbagliata, ecco, a, diciamo, incrementare attraverso i propri figli, insomma, episodi quali bullismo oppure utilizzo anche di droga in età molto, diciamo, giovanili, tipo 12-13 anni. Ricordiamo lo scandalo dell'utilizzo del crack, no? Nel vecchio palazzo, insomma, baronale, tanti anni fa, ma non solo. Allora, Sindaco, lei oggi che cosa si sente di dire alle famiglie, le famiglie che sono la maggior parte sane di Scanzano, no? In merito al tema sicurezza. C'è stata anche una lotta per il presidio delle forze dell'ordine, purtroppo andata male. Allora, sicurezza. Primo punto, abbiamo fatto una richiesta di ubicazione di uno sportello dei carabinieri, oltre ad avere un presidio mobile costantemente presente sul territorio, e aggiungo anche con una certa efficienza, ma al fine di efficientare ancora di più la presenza delle forze dell'ordine, nel caso di specie in particolare dei carabinieri, abbiamo chiesto l'attivazione di uno sportello che sarà sostanzialmente un punto di riferimento e una presenza costante sul territorio, oltre quella mobile, diciamo, del presidio mobile, e stiamo in attesa di ricevere risposta per l'installazione, per l'ubicazione di questo sportello fisso, teso anche a risolvere problemi di carattere burocratico, quale raccolta denuncia, ma in realtà sarà dato un messaggio chiaro, le forze dell'ordine ci sono, sono presenti. Dal punto di vista del monitoraggio e controllo del territorio, soprattutto sotto ferrovia, il Corpo Forestale dello Stato l'ha menzionato perché fa un lavoro assolutamente greggio, dal punto di vista del presidio del territorio comunale, urbano, c'è già al vaglio un progetto di installazione di videosorveglianza che, mi dovete consentire di dire, è più utile forse di cento uomini che presidiano il territorio, perché sono occhi fissi sul territorio e quindi vigili che consentono di individuare alle forze dell'ordine, quindi agli organi inquirenti, di agevolare molto le indagini, quindi individuare i responsabili delle malefatte attraverso l'uso della tecnologia, quindi stiamo lavorando anche sotto questo profilo. Diverso poi è il discorso, questo per quanto riguarda, sì, prevenzione, ma anche e soprattutto repressione dei reati, la parte della prevenzione e la videosorveglianza. Per quanto riguarda invece i ragazzi, beh, lì è un discorso, mi deve consentire, un po' più ampio, che va oltre i confini scansanesi, voglio dire, è un discorso generazionale dove andrebbe fatta, e in questo senso già ci siamo attivati implementando, diciamo, e favorendo un lavoro di rete fra le varie associazioni di volontariato, che sono una risorsa preziosissima, il terzo settore è una risorsa preziosissima, per attività di sensibilizzazione nei confronti di questi ragazzi, ma nei confronti, oserei dire, anche delle famiglie di questi ragazzi, perché è importante quello, cioè il problema è che noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, e lo dico io per primo, ho dei figli, quindi mi devo assumere le mie responsabilità e devo dire che forse l'opera, quello che sono i ragazzi di oggi, sono frutto della nostra opera, quindi della nostra educazione. Mettiamoci un po' tutti in discussione e cerchiamo di favorire chi riesce a fare opera di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie e di riflesso e di conseguenza anche dei ragazzi. Quindi ci stiamo attivando anche in tal senso con l'assessore alle politiche sociali, il vice sindaco Giovanna Merlo, la quale ha avuto l'impulso, e lo sta svolgendo egregiamente, di creare un collegamento, di effettuare un lavoro di rete che consente in qualche modo di sensibilizzare su queste questioni serie, quali droga, alcol e quant'altro. Aggiungo anche che abbiamo un giovane assessore, che è la Donatella Puce, che si sta attivando per coinvolgere, tra l'altro, questi ragazzi più giovani, in alcune iniziative che possono distrarli e distoglierli dalle cazzate che combinano, perché di questo si tratta, scusate, fatemelo passare il termine, però io non parlo il politichese, voglio parlare da genitori. Sono cazzate quelle che combinano, cioè è inutile illudersi che la vita sia più bella quando si fanno le canne, quando si ubriacano, cioè glielo dobbiamo far capire che è una distorsione della realtà. La vita è bella, il mondo è bello, il sole è bello, quando uno è lucido, non di certo quando si ubriaca o quando si sballa. Quindi, diciamo, c'è anche questa politica che stiamo adottando per coinvolgere questi ragazzi in iniziative, in attività tese a migliorare anche il territorio per l'estate, ma anche per l'inverno, pensiamo al carnevale, pensiamo al Natale, insomma, per dargli un'opportunità di fare qualcosa di diverso, perché è facile poi puntare il dito anche contro i ragazzi, i giovani, però se non c'è nulla da fare, ahimè, l'oblio è foriero sempre di problematiche di varie nature, sia per gli adulti che per i ragazzi. Quindi una presenza costante, questa volta, nella comunità di Scanzano da parte dell'amministrazione comunale. Da Scanzano Ionico è tutto, grazie.